Ehehehe! Salve, io sono Picchiarello, benvenuti nell'intervista al cast del Grande Viaggio di Springtrap. Dunque, dato che molte persone l'hanno richiesto, ce l'hanno richiesto, blè, avete capito, negli extra del Grande Viaggio di Springtrap, sono qui per farvi qualche domanda. La prima è, la serie si è conclusa un mese fa. Che cosa state facendo ultimamente? Cosa state combinando? I fan vogliono saperlo. In realtà io ho iniziato la scuola. Io con Ryder faccio varie cose con la Paw Patrol. Io non sto facendo proprio un bel niente. Io sto cercando un altro ruolo per un film. Magari prendo l'Oscar. Io ultimamente sto correndo. Io e Nightmare Freddy stiamo facendo vari viaggi. Sì, esatto. Ah, quindi siete un po' dubbiosi, eh? Voi altri? Ma io, Raffaello, niente di che. Ah, io no. Sinceramente pure io non lo so. Beh, io sono l'unico qua che sta facendo cose importanti. Tipo che cosa? Tipo che ho aperto l'azienda di Montgomery Gator. Un'azienda? Di che stai parlando, scusa? Già, infatti. Beh, praticamente è un'azienda che... Beh, sicuramente non lo so. Non c'ho ancora pensato, ma vorrei aprirla. Ok, allora. Pinguino, Raffaello, Fishface, Tartosso, Fishface da questa parte, per favore. Oh, 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 sì. Sì, sì, certo, certo. Allora, la mia domanda è questa. Come avete reagito quando avete scoperto che, beh, tornavate in questa serie? Prima siete apparsi come antagonisti secondari all'interno di Freddy Foxy, e qui avete un ruolo particolare. Potete per favore parlarne? Beh, il nostro ruolo in realtà è stato cambiato più volte. All'inizio dovevo essere il cattivo principale, come si vedeva nella vecchia versione. Mamma mia, la vecchia versione. Però comunque so che a qualcuno è piaciuto. Ma sì, però era troppo troppo chiacchiere parlato. Non c'era molta azione, uffa. Ed è per questo che è stato cambiato un po' il copione. Noi in pratica siamo tutto il tempo dentro la prigione. Però siamo noi a far capire a Montgomery che deve attaccare Springtrap. Già, avrei preferito un ruolo migliore, però che dire, almeno poi siamo diventati buoni e via così. Aia. Ok, quindi il vostro ruolo è stato abbastanza semplice. Per di più sì. Vabbè. Ok. Allora, Judy, Ops e Chase. Voi siete i due poliziotti, e nel metodo di Freddy Foxy loro erano Roxanne e del Chip. Dunque, avete apprezzato il vostro ruolo? Uff, uff, tantissimo. Oh, veramente tanto. Noi due siamo entrambi poliziotti. Io sono la poliziotta di Zootropolis. E io di Adventure Bay. Uff, uff. Beh, siamo andati molto amici. All'inizio ci adevamo, sai? Davvero? Certo, questo qua non faceva altro che parlare di Nick, Nick Wilde, lì là là là. E tu con Ryder, scusa? Vabbè, poi in realtà siamo andati molto amici e ci vogliamo bene comunque. Sì, è il nostro ruolo perfetto. Anche se sinceramente avrei preferito recitare un'altra parte, però ci sta, dai. Montgomery Gator, lì dietro. Ho una domanda per te. Ok, dimmi tutto, sono tutte orecchie. Ti è piaciuto interpretare il cattivo? O volevi essere qualcun altro? Beh, devo dire che essere l'antagonista principale è stata veramente una gran figata. Nella prima versione io perdevo la memoria e faccio finta di essere uno stupido, ma qua veramente sono tipo molto vendicativo perché la mia Roxanne è morta. Beh, la mia parte preferita da registrare è stata quella dove uno, quando ho fulminato Tai Lung. Sì, vabbè, l'hai detto mille volte che ti piace quella scena. E poi quando ho fatto il combattimento contro Springtrap, ovviamente, oh, lì ti ho spaccato proprio. Non è vero? Sì che è vero. Ho detto che non è vero. Comunque mi è piaciuto tanto recitare la parte del cattivo, anche se come attore vorrei tantissimo far parte di una serie dove io sono il protagonista, magari in uno spin-off su di me. Chi so sa, non si sa. Molto bene. Ok, voi due sarete alla fine, d'accordo? Va bene. Circus Baby e Lefty. Siete pronti per la domanda? Certamente, certo. Ok, la mia domanda è questa. Per caso, i vostri personaggi... Non lo so, sono soltanto amici? O forse di più? Eh, questa è una bella domanda. In realtà in origine dovevamo proprio essere dei fidanzati, ma poi non è più stato. Nella vecchia versione Circus Baby era lesbica, ve lo ricordo. Ma sì, siamo buoni amici comunque. Lefty, tu sei cieco veramente? Cieco io? Eh, no, non sono cieco. Cieco è il mio personaggio, io non lo sono. Perché hai quel bastone in mano allora? Perché è comodo, mi aiuta tanto e poi faccio fatica a camminare a volte. Sì, esatto. E comunque una domanda per me ce ne hai una? Sì. Ma quel trucco è vero trucco oppure il colore della tua pelle robotica? È il colore della mia pelle robotica. Allora, Ballora Puppet e Fountain Freddy e Bon Bon, siete pronti? Certamente! Partiamo da voi due. Beh, sì, voi non apparite tanto nella serie, anzi, morite. Come vi è sembrata la scena? Cioè, la vostra reazione è quello che è accaduto? Sfortunatamente non siamo apparsi in molti episodi. Beh, siamo stati molto importanti perché prima erano tipo dei cattivi fatti a caso, che venivano a mettere Tue Boni nel sacrificio, bla bla bla, eccetera. Ah, sì, mi ricordo. Però per il resto siamo stati molto importanti perché siamo stati noi a portare qui il radar che poi ha usato Montgomery Gator nella battaglia finale vi dicendo anche se siamo morti subito, siamo importanti. Oh, scusa Puppet, la mia domanda è questa. Ma quella canzoncina Io sono Puppet, bla bla bla, eccetera, dove proviene? Oh, quella proviene da Miraculous Ladybug stagione 4 e la canzone di Rischio. E sì. Hmm. Beh, il tuo personaggio è molto importante, ma prima era una sorta di antagonista. Lo doveva essere comunque, lo doveva essere, ma non lo so. Ok, molto bene. Allora, allora, tu sei veramente fidanzata con Springtrap? Ah, no. Perché no? Diciamo che prima lo eravamo, ma ci siamo lasciati da qualche settimana. Sì, siamo diventati amici adesso. Ah, d'accordo. Allora, beh, allora, dimmi. Ti è piaciuto il tuo ruolo in questa serie? È molto più importante rispetto all'avventura di Freddy Foxy, no? Questo è vero. Sicuramente ho avuto più parti. Però, non so, mi sarebbe piaciuto di più vedere qualche altro flashback con Springtrap. Nella versione precedente ce n'erano alcuni, ma poi sono stati tutti quanti rimossi. Peccato. Allora, Rockstar Freddy, parliamo un po' del tuo personaggio. Beh, che devo dire? Il mio personaggio è particolare perché si tratta del padre di Lefty. Sì, certo. Praticamente vuole assomente tanti soldi, vuole comunque conquistare il mondo e... Ah, certamente, cioè... Eh, ok, ma... Il tuo personaggio è veramente com'è? Beh, diciamo che è simpatico. Eh, simpatico? Come no? È il personaggio più dosso della serie. Comunque è stato molto difficile recitare la parte del cattivo che combatte contro Lefty. Mi ha fatto veramente molto male alla schiena. È vero, è vero. Però tu mi hai fatto male... All'orecchio. Scusa, è stato un incidente. Eh. Signor Tai Lung, parloci un po' del tuo ruolo. Il mio ruolo è stato particolare perché si tratta dell'insegnante, o meglio, il vecchio insegnante di polizia di Montgomery Gator Xenity e del Chip. Io non appaio molto, sono un personaggio secondario e sicuramente un ruolo minore di tutti gli altri. Però almeno ho fatto la mia buona figura e sono contento di aver recitato questa... questo ruolo, questa parte qua, hai capito? Già, Tai Lung hai fatto una buona parte, lo sai? Wow, veramente? Eh, no. E ora passiamo a Nightmare Freddy. Salve. Allora Nightmare Freddy, ho notato che tu vieni introdotto come un personaggio stupito e sciocco, ma dopo che Sprintra fa una certa cacchiata e figuraccia con la polizia, vero? Eh, sì. Perché tu diventi un personaggio molto più serio, molto più interessante, vendicativo. Ci vuoi parlare un po' del tuo ruolo, per esempio? Questa sì è una bella domanda. È vero, parto un po' come una sorta di stupido idiota che cade da un paracadute e sembra che è tipo, beh, schiavo di Nightmare Bonnie. Ehi, uffa. Però alla fine divento molto più coraggioso, molto più importante e molto molto più figo. Nella versione, quella prima vecchia, io morivo per colpa di Pinguino. Eh, sì, però era nel copione. Ma in fin dei conti sono contento di quello che ho fatto. E Nightmare Bonnie è veramente molto simpatico e allegro. Solo per sapere, siete fidanzati oppure no? Beh, all'inizio non eravamo durante le riprese. Ma poi abbiamo capito che... Beh, siamo fatti l'uno per l'altro e... Già, è vero. Allora Nightmare Bonnie, domanda per te, importantissima che è l'ultima. Vieni qua. La mia domanda è questa. Riesci a fare la breakdance? Certamente. Ok. E adesso che cosa succede? Succede solamente che vorrei sapere da tutti voi se ci sarà un seguito. Non lo sappiamo proprio. Il grande divagio di Springtrap, diciamo che ha avuto qualche problema. Esatto, è stato fatto per ben due volte. Nella versione vecchia siamo arrivati al tredicesimo episodio. Mentre questa ha 16 puntate. La serie ha ricevuto critiche abbastanza miste. C'è chi l'ha apprezzata, c'è chi l'ha disprezzata, chi l'ha odiata e ve dicendo. Però, dato le visualizzazioni e dato anche all'interesse del pubblico, solamente il primo episodio e l'ultimo hanno fatto successo. Gli altri non tanto. Sfortunatamente non abbiamo fatto gli stessi numeri di Aventura di Freddy e Foxy. Magari è proprio perché la gente era affezionata a quei personaggi. Però, non potevamo mica chiamare la serie Aventura di Freddy e Foxy 2. Dato che quei due apparono solamente verso gli ultimi episodi. Quindi, eh sì. Non sappiamo se ci sarà mai un seguito. Forse è stato cancellato, forse è in programmazione, ma bisogna aspettare il 2023. Già, non si sa. Però, se finisce con il grande viaggio di Springtrap, credo che sia comunque una buona conclusione. Giusto, ragazzi? Giustissimo, vero? Sì, su questo ha proprio ragione. Allora, questo è tutto per l'intervista del caso del grande viaggio di Springtrap. Spero vi sia piaciuta e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, 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 ciao.